Musica Musica Stamattina siamo venuti qua nel pontile di Palazzo Balbi, palazzo della regione, dove fino a ieri era in storia atteso Salvini per firmare i protocolli di legalità per la pedemontana. Questa mattina hanno invece deciso di trasferirsi in una zona rossa a chiudere questa città, in una zona rossa dove solo tanto loro come chiusi in gabbia si mettono a decidere a firmare protocolli di legalità su grandi opere. La stessa lega, la legalità che professa su queste grandi opere è quella di aver rubato 49 milioni, la legalità che si vede nel lasciar morire le persone in mare. Noi invece siamo antirazzisti e questa città lo è, lo deve continuare ad essere. Per noi non ci sono zone rosse, non ci sono posti dove non possiamo andare e oggi il Palazzo della regione l'abbiamo toccato per questo. Andremo a mettere altri striscioni in giro per la città perché Venezia non è una città che può essere chiusa, non è una città che può essere solo a bannaggio di un razzista come Salvini. L'abbiamo vista la grande risposta che c'è stata a Catania la scorsa settimana, una manifestazione con migliaia di persone che non accettano le politiche che si stanno mettendo in atto da questo governo. L'abbiamo visto l'altro giorno a Milano dove 15 mila persone sono scese in piazza mentre Salvini stringeva patti con Orban. Ecco oggi lo vediamo anche a Venezia e noi non possiamo accettare questo tipo di politiche sulla nostra pelle e sulla pelle di migliaia di persone che cercano di andare via e di attraversare un viaggio in mare dove invece Salvini stesso le lascia morire perché è questo che sta facendo. Quindi abbiamo deciso di dire chiudiamo i pontili, chiudiamo i pontili al razzismo e diciamo che Salvini non è benvenuto in questa città. Salvini torna a casa tua!